La chirurgia toracica è la branca della chirurgia che affronta tutti gli elementi di preparazione all'eventuale intervento chirurgico a interesse della parte toracica, polmoni, esofago, grossi bronchi, trachea. La chirurgia toracica opera su formazioni tumorali ed anche sulla parte di traumatologia della parete toracica, della trachea, dei polmoni e bronchi. Si occupa inoltre di interventi alla tiroide inclusi i gozzi, per tutte le sue patologie e gestendole sempre in un quadro multidisciplinare, oncologico ed endocrinologo. Coinvolta anche nei casi di metastasi polmonari con interventi di asportazione laser. Lo specialista di questa disciplina è laureato in medicina e chirurgia e successivamente ha svolto una specializzazione nel suo settore. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. È necessario rivolgersi a un chirurgo toracico nel caso di problematiche alla parete toracica, la pleura, il mediastino, la trachea e i polmoni. La principale che richiede l'intervento del chirurgo toracico è la neoplasia, che sia primitiva o secondaria ai polmoni, ma anche il trattamento chirurgico per deformità polmonari o ernia iatale. È bene chiedere un appuntamento al chirurgo toracico in caso di decorso post-operatorio. È importante rivolgersi al proprio medico di medicina generale in presenza di sintomi da non sottovalutare come Stai cercando il chirurgo toracico specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di UMA Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!